A Roseto continua a tenere banco la situazione relativa ai profughi ucraini ospitati nelle strutture alberghiere. Sono rimasti due gli alberghi ora ad avere all'interno circa 60 ucraini, questi ultimi rimasti a Roseto dopo aver rifiutato diversa destinazione a giugno e dopo aver fatto un summit sotto il palazzo del municipio rosetano chiedendo sussidi, ma non è cambiato nulla. Per Anthony Romani, uno degli albergatori che li ospita, la situazione ora è diventata insostenibile. Una richiesta di aiuto importante perché per Romani ora a rimetterci sono loro, soprattutto a livello economico e ovviamente dal punto di vista umano non può mandarli via a vivere per strada. Siamo rimasti come eravamo prima, abbandonati, lasciati qui, 21 persone forse si sono scordate. Il problema è che ci sono dei minori oggi che vanno a scuola, che hanno bisogno di libri e mi chiedono dei libri. La protezione civile oggi non ci viene neanche più a trovare, non lo so, io non so neanche più che fare. E con la vostra richiesta d'aiuto è anche ai piani più alti della protezione civile? Certo, dal sindaco, dal prefetto, dal presidente Marsiglio. Trovargli una sistemazione, collocarli una volta definitiva. Venissero qua e parlano con loro per trovare una soluzione. Non si può andare avanti così. Ricordiamo che ci sono anche qui diversi minori che vanno a scuola. Vanno a scuola e hanno bisogno dei libri. Chiedono a me come poter acquistare dei libri. Qui, quando fu fatto il summit in Piazza Repubblica Roseto, era stato detto praticamente a tutti gli ucraini che potevano avere diverso alloggio fuori regione. Sì, però qualcuno stava finendo la scuola, qualcuno aveva appena trovato un lavoro stagionale e a oggi nessuno più si fa vedere. Noi stiamo qui, li chiamiamo, cerchiamo che vengano a trovare una soluzione.